Allora Placido adesso devi fare il promo per il workshop video marketing for business. Mi raccomando, sii chiaro, parla al tuo pubblico, tutti devono capire cosa gli stai dicendo. Vai! Ragazzi vi aspettiamo tutti il 29 e 30 settembre a Milano al nuovo hotel a Cagranda per il workshop di video marketing. Placido, 29 e 30 cosa? Settembre. Settembre con l'aia aperta, non settembre, settembre. Vai, puoi farlo, vai. Ragazzi vi aspettiamo tutti il 29 e 30 settembre a Milano. Ma Placido ma non settembre, è solo una la vocale aperta, settembre, quella tonica, non puoi aprire anche l'ultima. Sono un caso disperato. Facciamo una cosa Patrick, perché non vieni ad aiutarci anche tu? Ci spieghi qualcosina, come si parla bene, cosa ne dici? Amici mi ha convinto, allora faccio un salto anch'io così racconto a Placido e a tutti voi un po' di cose sulla comunicazione al microfono nel video marketing. Quando è la data 29 e 30? Settembre. Settembre, l'ha detto bene adesso. Cas Createsino